Finalmente torniamo a parlare di prodotti Xiaomi con una recensione di ben 3 prodotti Salve ragazzi bentornati in questo nuovo video Prima di partire vi dico due cose rapidissime La prima, e come vi ho detto anche nello scorso video, sono in live su Twitch quasi tutti i giorni Almeno durante la settimana Dopo più o meno le 8, a volte anche prima però siamo dalle 8 alle 10, sono su Twitch Vi lascio il canale qua sotto in descrizione La seconda cosa è che qui sotto in descrizione, oltre ai soliti link social, troverete un paio di informazioni in più Abbiamo il coupon esclusivo per il sito di Mr.Key dove trovate chiavi di Office di Windows originali con un coupon sconto Il coupon sconto a noi è dedicato da Metal Custom PC, quindi componenti hardware, andate da un'occhiata anche lì E la cosa più importante, troverete anche i link di due gruppi Un gruppo Facebook, un gruppo Telegram e di TechCaffè Questo è TechCaffè, è un piccolo gruppo di appassionati nerd di tecnologia Dove troverete anche Daniele Pintus e Fabio di TechOffers Dove non facciamo nient'altro che parlare di tecnologia Se avete domande, qualsiasi cosa, potete farla lì Ci sono anche io dentro, rispondiamo quando sia tempo Però è un modo per stare un po' più in contatto Quindi se volete vi lascio qua sotto anche quei link Dei tre prodotti della Xiaomi partirei da lui Vitamir, anche questa è una delle tante sottomarche di Xiaomi che ormai abbiamo imparato a conoscere In questo caso siamo davanti a un frullatore portatile Ne ho visti diversi, ho scelto di provare questo perché mi è sembrato quello che garantiva un buon rapporto col prezzo ma anche con la potenza Ce ne sono alcuni molto molto piccoli che hanno la lama solo nella parte in alto Però tendono ad essere un po' poco potenti se vogliamo triturare del ghiaccio per fare degli frullati un po' più particolari Mi sembravano un po' limitanti, quindi ne ho scelto uno che avesse un motore abbastanza forte Qui parliamo di un motore da 65 watt Essendo lui portatile troviamo sul fondo una presa USB per la ricarica della batteria litio integrata da 2000 mAh Esteticamente mi piace, è molto carino, minimale Ha un pratico laccetto per portarselo a presto È abbastanza leggero I materiali per lo più sono tutta plastica, anche da parte qui non è vetro, è tutta plastica Il suo funzionamento è molto banale, col tasto qua basta tenerlo premuto un paio di secondi e lui partirà Si interrompo perché fa un po' di casino Ha l'autospegnimento, quindi una volta fatto partire lui dopo circa 40 secondi si spegne in modo automatico Ovviamente è dotato anche di sistemi di sicurezza, quindi se noi andiamo ad aprire il frullatore ci ha impedito l'accensione In modo che non possiamo rischiare di farci male Perché c'è un sensore qua sul fondo che nota se è chiuso correttamente Anche se lo lasciamo semi chiuso e non aperto bene, come vedete non parte Dobbiamo proprio chiuderlo bene in modo da fargli fare un piccolo click che indica lui che è chiuso correttamente La cosa che non mi piace è che è buono questo sistema di sicurezza Il problema è soltanto che se io apro la parte superiore per inserire le cose In questo caso non c'è nessun sensore sul tappo ovviamente E lui può partire, quindi io comunque potrei inserire la mano dentro e farmi male Si potrà fare forse qualcosina in più, però effettivamente non ci sono tante soluzioni che hanno anche un doppio sensore sul coperchio Poi comunque stiamo parlando di un prodotto che con i vari coupon si aggira a poco più di 20€ Quindi comunque è anche parecchio economico Le lame d'acciaio belle resistenti, riescono a triturare praticamente tutto Il motore è parecchio potente come dicevo all'inizio Quindi non ha problemi anche con ghiaccio, con cose un po' più dure L'unico problema con cui potreste andare incontro è il fatto di riempirlo troppo e lui non parte Perché il motore ha bisogno di una piccola spinta iniziale per riuscire a triturare anche le cose più pesanti In quel caso basta riempirlo, capovolgerlo in modo che la lama sia libera Fate partire, la lama inizia a girare, lo rimettete dritto, la roba cade sulla lama che sta girando e riesce a triturare praticamente tutto Ma direi che adesso è il momento di metterlo subito alla prova Andrò a realizzare un piccolo smoothies con del latte, della banana, del cioccolato fondente triturato Un po' di noci e qualche mandorla Giusto per fare una cosa che tipicamente bevo Poi adesso vi sto parlando del prodotto, le ricette ne trovate tantissime su internet e dei vari smoothies Lui automaticamente dopo 40 secondi si spegne però io faccio frullare tutto due volte Perché preferisco averlo ancora un po' più cremoso facendo montare bene il latte Qua è questione di gusti ovviamente Devo dire è davvero molto molto buono Per colazione è perfetto Come sapore è molto simile a un banana bread Alla fine gli ingredienti sono anche molto molto simili Devo dire che anche come consistenza rende molto molto bene Ottimo ottimo frullato Dopo averlo utilizzato è facilissimo pulirlo Riempiamo di acqua, lo facciamo andare in modo da far pulire tutte le lame con l'acqua corrente Poi possiamo smontarlo tranquillamente in tre pezzi per sciacquarlo comodamente L'unica cosa che vi consiglio è evitare di mettere la base dove contiene la batteria direttamente sotto l'acqua Non ha senso, quindi sciacquate tutti gli altri pezzi La parte della base si sciacquera da sola con l'acqua che inserite dentro e fate andare Quindi non mettetelo direttamente sotto l'acqua perché altrimenti potrebbe danneggiarsi la batteria e il motore Parlando di batteria, quanto dura? Allora la batteria devo dire che dura abbastanza Diciamo che io riesco a fare circa 15 frullati più o meno Che è un'indicazione un po' così così perché effettivamente quanto sono 15 frullati Io di solito faccio frullare due volte quindi in realtà dura un po' di più Ha un'ottima durata la batteria considerando anche che si ricarica lo stesso in tre ore e tre ore e mezzo più o meno Quindi abbastanza abbastanza pratico In confezione abbiamo il suo cavetto usb e possiamo utilizzare un qualsiasi alimentatore da cellulare per caricarlo Per il resto è un altro molto pratico e anche un'idea carina per quando si è in viaggio Si vuole fare un frullato e non sempre se andiamo all'estero troviamo magari un frullatore disponibile nell'hotel, nella casa E anche se in casa non volete installare un frullatore di quelli grandi Questo qua per 1-2 persone è perfetto La capienza è da 330 ml quindi è riuscito a fare due bicchieri come quello che ho fatto io a vedere prima O comunque una tazza bella bella grande Ma adesso passiamo al prossimo prodotto Il secondo prodotto di oggi è questo prodotto della Derma che è un bollitore, specie di termos Non so bene neanche come indicarlo, forse il termine corretto è scaldavivande Allora lui è fatto molto bene, materiali ottimi, il tappo leggermente gommato La parte interna è tutta fatta con un'anima ad acciaio, ovviamente acciaio che va bene per gli alimenti E qual è il suo scopo? Come vedete qua sul frontale ha un display Display che si alimenta solo tramite corrente Quindi abbiamo una classica presa a 220 volt Una volta che è alimentato noi vedremo la temperatura del liquido che noi mettiamo all'interno E abbiamo due tasti Il tasto basso che ci permette di regolare la temperatura a cui vogliamo far arrivare il liquido al nostro interno E il tasto superiore che ci permette di avviare la fase di riscaldamento del liquido Perché ho detto che non so bene come catalogarlo? Perché la forma effettivamente è quella di un termos seppur piccolino È molto molto stretto rispetto a un termos tradizionale Non ha delle pareti molto molto spesse E infatti questo va a inficiare sulla sua capacità di mantenere caldo Noi possiamo partire da un 40 gradi e aumentare più o meno 5 gradi fino ad arrivare a 90 Segnati sul display Poi in realtà in fase di riscaldamento arriva tranquillamente a 100 gradi Almeno la lettura del display arriva fino a 99 Poi va anche oltre ma non fa più vedere la temperatura Quindi arriva tranquillamente a 100 gradi In quanto tempo riscalda la vivanda dipende un po' dalla temperatura con cui partiamo A quella a cui vogliamo arrivare Nel timelapse che vi sto facendo svedere sicuramente Ho fatto una procedura partendo da 28 gradi di temperatura Con una temperatura ambientale di 20 gradi È impiegato circa un minuto e mezzo per arrivare a 40 gradi E 5 minuti e 40 per arrivare a 100 gradi Però come vi dicevo non è un termos quindi nel momento in cui noi andiamo a staccare l'alimentazione Tende a raffreddarsi abbastanza velocemente Un pochino una volta ben chiuso tende a isolare un minimo Però in circa 3 ore e mezza, 4 sempre con la stanza a 20 gradi perdiamo davvero tanto A 100 gradi ci troviamo intorno ai 38-40 gradi Quindi abbiamo perso davvero tanta e tanta temperatura Non è assolutamente una tenuta da un termos professionale Qua in alto ha un tasto gommato con cui possiamo far fuoriuscire il vapore caldo Quindi una volta che noi siamo arrivati a temperatura Facciamo pressione qua ed esce il vapore Questo ci permette di 1 evitare quando apriamo di farci una sbuffata di vapore caldo in faccia E 2 di mantenere meglio il liquido all'interno Piccolo problema se arriviamo a 100 gradi e premiamo qua E vi rischiate di brussare il dito, è mai capitato Perché tutto il vapore caldo fuoriesce da qua stesso e quindi il dito è sopra Forse non proprio super pratico Altra cosa che non mi è piaciuta è la presa Perché abbiamo cavo cinese, cortissimo E il fatto della lunghezza qua potrebbe sicuramente essere migliorato Perché comunque è portatile Però non è che vuol dire che devo stare attaccato alla presa per utilizzarlo Ho un adattatore perché la presa è cinese Questo non mi è piaciuto Ovviamente il prodotto cinese lo sappiamo Più che altro la lunghezza del cavo Per fortuna è un cavo abbastanza standard Si riesce a trovare tranquillamente su Amazon Quindi si può sostituire E quindi questo qua possiamo buttarlo via tranquillamente Altra cosa che secondo me si poteva migliorare è che la temperatura del liquido Si è piaciuta carina farla visualizzare Anche senza andare in corrente Quindi magari una piccola batteria sua interna Almeno solo per visualizzare la temperatura Perché così adesso io per sapere a temperatura questo liquido Devo comunque attaccarla in corrente Non è proprio il massimo, il massimo della comodità Ma quindi perché vi sto portando questo prodotto nonostante tutti questi difetti? Perché nonostante questi piccoli difetti secondo me il prodotto non è male E ha una sua piccola nicchia ristretta di persone a cui potrebbero essere interessate Basta pensare ai casi di quando abbiamo un bambino piccolo e dobbiamo scaldare il latte A volte può essere comodo avere dietro con sé qualcosa che ci permette di riscaldare la temperatura impostata Tenere controllato la temperatura Quindi magari da qualche parte mettiamo il latte Impostiamo 40 gradi Lasciamo scaldare a 40 Col sempre tutto attaccato Guardiamo quando cade la temperatura Tanto tenendolo aperto cala molto in fretta Andiamo a temperatura esatta Facciamo un doppio controllo E possiamo dare il nostro latte al bambino O banalmente anche una qualsiasi bevanda Un tè caldo che vogliamo portarci in giro Che siamo già scaldati A casa ci siamo preparati Lo mettiamo qua dentro Lo possiamo scaldare a temperatura che vogliamo noi 50-60 gradi Quello che preferiamo E lo beviamo esattamente alla temperatura impostata Questo secondo me può essere un utilizzo molto molto comodo E per il prezzo Per i 20 euro che sono richiesti È realizzato davvero bene Quindi tutti gli altri difetti Siccome possono passare in secondo piano Si compra un cavo decente Anziché il suo originale Si sta attenti quando si scarica il vapore E per il resto è un ottimo prodotto L'ultimo prodotto di cui voglio parlarvi oggi È quello contenuto in questa scatolina Questo brand è Mijia Quindi sicuramente lo conoscerete Che ha fatto tantissimi altri prodotti di Xiaomi Partiamo già dalla scatola Con cui vi arriva in confezione estremamente rigida Fatta molto molto bene Probabilmente è un prodotto che avete già visto in giro Perché è stuporto da tante persone Ed è l'avvitatore della Mijia Questo piccolo gioiellino È fatto benissimo Davvero sia esteticamente Sia a livello di materiali È un pezzo unico Realizzato molto molto bene Impugnatura abbastanza comoda Devo dire Forse appena un filo scivolosetta Però davvero comoda Ha una sua luce per andare a vedere i punti più bastardi Ed è semplicissima in realtà Perché abbiamo un unico tasto Che al momento non funziona Perché è fermo sulla parte centrale di questo selettore Che è posto sulla parte posteriore Dal selettore possiamo scegliere semplicemente Se andare in senso orario o in senso anti-orario Per avvitare o svitare le viti Una volta impostato Premiamo e lui svita L'avvitatore è potentissimo Insomma non ho mai avuto problemi con viti nel legno Viti nel muro dentro dei fissure Avvitato e svitato sempre tutto senza problemi L'unica grande mancanza Forse con un avvitatore così potente È il fatto di non avere una frizione Quindi c'è il rischio di avvitando delle viti Con la testa un po' scaccina E delle punte molto dure Di andare a spanarle Se la vita non è buona Io in un vecchio video Vi ho portato anche lui Il Waw Stick Waw Stick Ed è un altro piccolo avvitatore Sempre della Xiaomi Lui lo uso tantissimo Comodissimo per tutte quelle viti Che sono nei computer Negli smartphone Per tutto quello che è elettronica Ovviamente se provate con lui Ad avvitare una vita nel legno Non ci riuscite Perché non ha tutta quella forza Cosa che non posso dire con questo Se con questo provate a svitare una vita di un computer Probabilmente la distruggete Perché è troppo piccola Però viti grosse da legno eccetera Si riveve senza problemi Ha un'ottima durata della batteria Batteria ricaricabile con un cavo Type-C E durerà più o meno Non lo so Non ho mai avuto problemi di batteria scarica Mentre lo utilizzavo Probabilmente ci fai anche un'ora In modo continuativo a girare Quindi vuol dire che se Lo usiamo per avvitare le viti Abbiamo un tempo di ricarica lunghissimo In confezione oltre lui e il cavetto Troviamo anche le punte Punte realizzate molto bene Verniciate anche loro Dello stesso colore dell'avvitatore Vernice comunque buona Perché le usate parecchie Non si sono mai rovinate E abbiamo anche un piccolo estensore Che ci permette di allungare un pochino La punta In modo da arrivare nei punti un po' più stretti Punte ottime Per il prezzo dell'avvitatore Quindi 30-35 euro Mi sarei aspettato qualche punta in più Altro piccolo limite che trovo È il fatto di non poter ruotare Questa parte qua dell'avvitatore Dobbiamo sempre tenermi con l'impugnatura a pistola Però se abbiamo dei mobili o cose particolari A punta che vanno a colpire il manico Non riusciamo ad arrivare in profondità con l'avvitatore L'estensore aiuta un pochino Però sicuramente se fosse possibile Averlo in posizione verticale come alcuni avvitatori Sarebbe più comodo Però se cercate qualcosa di hobbystico Perché di per sé è fatto bene È realizzato benissimo Molto bello di design È comunque un avvitatore abbastanza hobbystico Però per 30 euro Secondo me ci può stare tranquillamente Se cercate qualcosa che sia anche Dalla parte bella da vedere Che funzioni bene E che sia solido Anche lui come gli altri prodotti Trovate tutti i link qua in descrizione Con eventuali coupon che sono uscito a trovarvi Siamo arrivati in fondo a questo video Vi prego commentate qua sotto Quale di questi tre prodotti vi è piaciuto di più Ho scelto di fare un video unico Perché fare tre video separati su questi prodotti Secondo me non ne valeva la pena Sono prodotti carini Ma non da giustificare un video dedicato a loro Per il resto vi ricordo Sezione di descrizione Tutti i link con cui ho parlato prima Soprattutto c'è il canale Twitch Se volete aggiungermi Se non siete interessati particolarmente alle live E volete farmi solo un favore Entrate nel link Fate follow quel vostro account di Twitch In modo che mi darete una mano A crescere anche su quel canale Che è ancora agli inizi Per il resto vi ringrazio lo stesso Anche se non vorrete farlo Sempre in descrizione Tutti gli altri link social Il gruppo TechCaffè E noi ci vediamo A un prossimo video Alla prossima